ma comunque da quando non faccio una reaction ultimamente facevo più era un tipo più da streaming e cagata ragazzi comunque buongiorno a tutti se guarda la mia faccia vuol dire che anche se non si fa a scuola comunque le didattiche a distanza sono una merda assurda vuol dire che ti devi svegliare sempre alla stessa ora ma solo che lo puoi fare anche disteso rilassato non hai fredda non hai un cazzo non hai neanche il tempo di hai tutto il tempo per fare quello che vuoi quindi abbiamo tempo anche per fare la reaction provare di iniziare lezione comunque scrivete al mio canale link in descrizione seguitemi su instagram potete anche ascoltarmi l'ultimo è più uscito su su sportifai comunque oggi pomeriggio esce il mio primo game game play gameplay vuol dire che già mentre il gioco ha un gioco comunque finalmente spera basta fatto il suo ritorno siamo felici tutti e non so non so dove era finito in messico ma da quello che so il messico l'ha riviato dietro a noi quindi con un altro pezzo c'è arrivato con un pezzo prima del suo album che usciva primo novembre se non mi sbaglio tra si doveva uscire primo novembre doveva uscire tra tre giorni e se giovedì e se giovedì quindi nel frattempo ci ha regalato un pezzo bottiglie privè qui noi non potevamo non fare la reaction spesso che sia uscito ieri ma ieri avevo altra da fare quindi non sono riuscito a fare andiamo subito al video bottiglie privè sfera basta vediamo cosa ci regala il suo ritorno tutto cambia nulla resto qua però bella il piano c'è sentite che 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 melodia tranne l'amore di tua madre cambiato quello che c'è dentro e non lo vedi che sono sincero e ne sai dei momenti no mi hai visto sorridere sopra uno yacht cambiato un'altra tipa mentre pensavo a te bella però cioè comunque sono gli aspettativi che ti aspetti da sferire basta però io sono curioso di sapere cosa c'è tanto del suo album a parte che è un episcolo ma non è proprio un album ma comunque io sono sicuro che a un certo punto della musica sentiremo sentiremo qualche parte che cioè che schizza male sono pure in mezzo alla gente tra bottiglie prime comunque non per criticare ma però sembra di sentire cioè sembra di sentire parte delle canzoni vecchie di sfera basta dove va a ripetere le stesse cose ovviamente se voi ascoltate bene il testo magari ma a me non fai che un cazzo di quello che sta dicendo però a me piace il ritornello però sembra che sia andato a prendere i pezzi i suoi testi vecchi e abbia tutti i messi insieme perché sembra di risentire le stesse cose però bella lo stesso cioè non giudica sfera basta perché quello che fa sfera basta nessuno d'italia lo sta facendo quindi a parte bello figo ma io spero che questa cosa sia il peggiore peggiore pezzo nel suo album che sta portando perché sinceramente sembra di sentire le stesse cose ma come vi ho già detto a me piace perché io perché cazzo non capisco di musica quindi quando qualcuno porta posso solo parlare dal mio giudizio e dire che a me non piace però spero che sia il peggiore perché non è non è un gran chiesto pezzo anzi non mi piace sinceramente però all inizio qualcosa di più c'era poi vabbè poi sembra di sentire la vecchia sfera di sempre sembra di sentire il fatto di sciroppo non so se mi sbaglio però sembra di sentire il lupo cioè sembra di sentire un po di pezzo di un po di parte di sciroppo non so ma spero c'è un suo pezzo non so se sciroppo qualcosa però sembra di risentirlo però sinceramente una parte sono deluso perché mi aspettavo qualcosa di più di più di più però ti ho detto io posso io 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 do solo un mio parere però non credo che non credo che posso fare io posso far meglio però da sfera basta comunque ti aspetti una scusa però dai essendo il primo pezzo prima della dell'album che potete chiamarlo il p ma ho visto la tracklist non ha tanti c'è non ha tanto non ha tanto però ma ci sto dai 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 eh si è bello si è bello si sto ma a me non è piaciuto non lo so perché ma a me no non mi ha aggazzato perché io non mi sono preparato a saltare a fare da parte che non avrei anche saltato perché se vedete questa faccia vuol dire che qualcosa qualcosa non va vuol dire che mi sono indormentato male comunque eh sì aspetteremo l'album sperando che questo sia il peggiore in tutto l'album che sta portando perché sinceramente a me a me non mi è gustà molto ciò perché beh tipo come ho già detto ti aspetti tanto ti aspetti tanto quindi vabbè aspetteremo e vedremo cosa cosa ci aspetterà nel giovedì non so se è il primo nel il novembre o il 24 non so quando esce però so se che esce il novembre il prossimo mese dovevo uscire però ero felice ma sono rimasto alla faccia di prima qualcosa in più qualcosa in più cioè qualcosa in più cioè tu vedi su instagram se ne basta ha messo un pezzo e come era come le pezzi bottiglie privé tu ti aspetti qualcosa di cioè era sparito un anno un anno e mezzo no bottiglie privé cioè qualcosa di di più di più lusso di più privé di più privé però poi vai ascoltare vai ascoltare qualcosa da 20 euro cioè però ve l'ho detto per me non ci sta ma è bello lo stesso dai ci può da sfera basta da sfera e basta niente è brutto quindi è solo un mio parere che a me non mi è piaciuto visto visto le canzoni di sfera e basta ragazzi in confronto a sciroppo in confronto a moon like come le cagate ma questa non è niente questo è acqua e pane quindi buongiorno a tutti iscrivete il mio canale e condividete il nostro racconti video perché nessuno lo fa inutile dirlo lasciate un like e ci vediamo l'altro video ah comunque si seguitemi su instagram